Sabato prossimo in tutto il mondo si celebrerà la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, proclamata dall'OIL e fondata dall'ONU. L'evento coincide nel 2018 con l'anno più nero per la sicurezza. Ad oggi infatti sono già 207 le morti bianche, con un sensibile incremento rispetto allo stesso periodo del 2017. Sono dati estremamente preoccupanti e la campania dall'inizio dell'anno registra già 15 vittime, 6 in provincia di Napoli, 5 in provincia di Salerno, 3 in provincia di Caserte e 1 in provincia di Avellino. Gli edili rappresentano mediamente il 20% di tutti i morti sul lavoro. La maggioranza di queste vittime è provocata da cadute dall'alto, dai tetti e dalle impalcature. Promuovere una più efficace, concreta ed incisiva cultura della sicurezza e della prevenzione è l'obiettivo dell'INAIL che mette in campo soluzioni in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica a partire dal progetto SISCA, il sistema per il controllo tecnologico della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, come spiega Raffaele D'Angelo, coordinatore regionale Conta Arpinail. Negli ultimi anni siamo partiti dai cantieri edili e abbiamo messo a punto una buona prassi, validata dal Ministero e premiata a livello internazionale, dal nome SISCA. SISCA sta per sicurezza attiva nei cantieri edili, dove monitoriamo con dei sensori a radiofrequenza la presenza di persone e mezzi in una determinata area di cantiere, quindi si creano dei varchi elettronici. Nel momento in cui si possono avere delle sovrapposizioni, il sistema rilevela e ci sono degli allarmi per impedire collisioni e rileviamo anche la presenza di sostanze pericolose nell'area respirata dai lavoratori.